fatti fottere da non fatti fottere da griffa no no top 2 ha quitato perché per evitare di bestemmiare quanto danno mental devo provare cosa cassa ci andiamo ce ne abbiamo due qua lasci di stare anche non ci interessa vedrà con questi in realtà da fastidio non ci interessa le nostre casse più importante non ti fa ritare sono lentissimi colpi lo schiacciamo preso bravo bella play brock schiacciamolo schiacciamo quale tu un aiuto ma che muore sopra non posso più sparare devo difendere niente rimane rimane rimani cerca solo la survive con diaz porco porco diaz porco diaz tra l'interessante ma pericoloso ho preso il pocio da me da me arrivo rimandiamo via non mi caccia 200 di vita quello 11 l'ho ammazzato rimette sa 200 hp va bene così va bene così non esageri aspetta in attimo ciao dentro bravo dai cazzo ok nice tutte pulite queste queste c'è spugli davanti qua mancata possiamo tenere questa zona è morto lui morta melody ok fatto male mila e sette non possiamo non possiamo recuperare recuperare recupera vita morta il mate il mate il mate ha capito no adesso sto sparando ok non mi distrillare concentrati morti tutti e due dobbiamo prendere di quelli è impossibile prenderli ok mi mancano cinquantotto trofei con con bea e ci siamo ma ha finito le missioni lei non le sto neanche facendo sto facendo i soldi per portare spike dagli gadget ok poi facciamo le missioni comunque per prendere gli ultimi gold che mancano a me mancano due food brawl due comprare con due e poi ho finito ok la missione che c'è da fare non ho porto non fare quello che vuoi devo solo giocare con bea per arrivare al bronzo 1 ok eh guarda guarda sotto in due eh ci chiudono scappa 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 che io ci muoio c'è anche uso quegli altri troppo lungo range basta che stai qua c'è la fai vite 8 bit l'odio quante coppe per il club 45 mila devi aspettare un secondo a prenderlo comunque ha ragione scusi era un attimo farò ringraziare c'è un angolo qua uno grazie ma e tu no e non ci sono io là e mi pusha non è tu non è che posso dire di non pusharmi hai capito che vuole e non lo so perché non giochi con me ok ok porco di asco è possibile con una raffica mi ha fatto è fortissimo no no ma ti sta togliendo troppo anche a te stai attento stai attento preso mille 3 il dino deve togliere il dino schiacciamolo sotto schiacciamolo sotto ok si muore il dino con 14 siamo a posto mortal dino easy niente l'altro è esponato e gli ha fottuto le cose io non ci posso credere gli tiro perlomeno la ulti non ci credo gli ha sponato nel momento in cui è morto al dino se tieni qua ce la fai eh non devi pushare non devi pusha eh ti pusha ma tu non pusharlo posso posso un attimo per favore vai un secondo solo un secondo solo va bene vai è vivo eh dai cazzo non posso sparare devi coprire tu non posso sparare devo ricoprare vita ok scendiamo leggermente giù resisti perché siete ancora in tre eh xiu ah e non era i meter ok va bene no non va bene va bene cosa cosa cazzo va bene non abbiamo perso corone stop ne abbiamo guadagnato due xiu a voglia a te necessito di dirti qualcosa allora perché non mi stai parlando perché non mi stai dicendo che ti stanno pushando ma era pusha dall'improvviso adesso proprio in questo istante non c'era nessuno basta 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 va bene quando sei immortale devi pusharli lo ritardo guardi 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 ho visto eh madonna ma quanto male fa la palla di fuoco pure questo è un altro personaggio che non conosco bombardino com'è bombardino che figo sembra completamente un altro brother si è uno stile molto figo no voglio quello stile così sembra molto più bello è una specie di mago ok pulito qua ci pusheranno qua facciamo gli aggressivi noi qua a sinistra morto il pocio morti tutti morti tutti Nettuno vai vai scontro finale trovi di fasto bombardino vai Nettuno facciamo sto fight dai non ci credo no io non ci voglio io non riesco a vedere queste cose questo colt è sponato mi ha tirato una ulti da immortale io sono sono morto non farti l'univino con colt che se ti ulta addosso sei morto penso io che sono immortale più sotto non facciamo gli schiacciare l'oro bombardino a scarsi in culo non c'è un'idea bombardino one posso non posso ciò colt morto eh sì abbiamo vinto eh lo so bomba Nettuno eh scusi è sbagliato mi sono smontato prima del dovuto fatti la cassa sopra troppo importanti power up con i brawler bassi su grip oh che miss brutto oh non l'ho visto non l'ho visto scappa scappa non lo stavo guardando tutto sopra a destra oddio forse no forse no forse no forse no forse no è dei nostri sera 4500 ciao xera grazie per aver regato una sub grazie bravissimo Nettuno il Brock sotto sto sparando tutto stronzo mi push uno con 10.000 mi fa malissimo brawler brock mi ha ammazzato con l'ulti no 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 però abbiamo preso 3 ma bene un forziere qua guarda griff guardi griff arrivo minchia griff ha messo veramente no c'è mannaggia lascia 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 6 one oh Dio morto lo provo a schiacciare Nettuno però ci schiacciando dietro eh torco Dio Nettuno Cristo santo di Dio benedetto della Madonna dai ah no me ne mancano ancora due x perché? perché non arriviamo secondi sì arrivo oltra miseria seiata ha fatto ti ha voltato eh no mi ha fatto 1700 da una distanza enorme infatti ero tranquillo ho detto ma com'è possibile 4 3 3 2 1 non puoi fare come possibile che ancora vivo no ma ne tu non è possibile lo intanto tre volte gli ho tirato le ulti e della full vita loro perché giocano passivi c'è aspetta un edgar che aspetti aspetta un edgar che prende la ulti sono prendi i cazzi altro che la ulti ecco edgar c'è l'ulti se la usa di garcia l'ultio ce ne ho 3 di utilizzi ok oh bravi gg bella play facciamoci schiacciare il mic è un bastardo morto il mic però me la tengo la ultima la tengo siamo 3 v1 me la tengo per dopo sì sì bravo bravo schiacciamo questo edgar appena ci puscia appena puscia me lo pompo io è tranquillo di mangalari 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 va bene io muoio ma subisce troppi danni non può vincere nel senso no ma perché tu dici che si cura il discorso sì sì ho spiegato ulti se non non moriva quello lì cazzo fa questo è il botte il botte il botte tutto attenzione bella questa 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 vale questa fa male morto 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 edgar buono morto edgar fantastico schiacciamoli allora più aggressivo senza generare possono posso uscire un po io lo so ma c'è il mic dietro non possiamo rischiare di prenderla stone tutti e tre stiamo schiacciando le tue non ci abbiamo fretta e io faccio anche i micro danni così scappa tutto scappa tutto torcoboia hai niente per niente va bene già fa tanto e lorenzo e forte vincenzo sarà pure forte ma è appena stesso quello che stavo dicendo no no mi preoccupo e come metti la musica non va bene ci vuol stare in che senso frank ti aiutato 35 minuti quel mic dobbiamo togliere quel mic è il più pericolo no 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 edgar venga vicino è quando c'è edgar e si avvicina venga vicino a me c'è l'ultimo no 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 morto subito 22 però se proteggi piper cerca di dargli il pic a piper rispostare mai che in modo che venga colpito da poi per se riesci e ocio all'erba e di continuare a mettergli le le cose lea piper porco diaz della distrutta bravo nettuno bellissima play ci sta questo è proprio il posto giusto questo per rimanere perché lui può provare con con piper esattamente a far così 2 v1 è problema è lui no non è un problema ecco la cellul t ma questi i ragazzi nice quando la palla io ti prende 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 la passata e tu lo vai hai la ulti ma i morti tutto libero nettuno ma ce l'hanno loro che c'erano capito punto di nuovo peccato vado in difesa gran salvataggio figa gli ulti in porta è utile quando magari c'è qualcuno che ci fosse più gente di nuovo ulti ancora in porta agli ulto ora ora ulti ora ulti bello ho proprio a sor centrale pensavo c'avessi io bravo nettuno non eri tu no cosa è una cosa che sbaglio prima un prima uso la ulti e poi attivo la v driver non va bene ebbè quelle sono giocate avanzate devo smettere di oltre dove non c'è nessuno io esattamente che personaggio stavo guardando uno ero lì fermo contro un muro che cammina dai dai ve la passo non ci credo se non l'ammazza abbia fatto gol oh io ce l'ho messa tutta nettuno io ce l'ho anche ultato addosso è appena finita pure la partita che sfigati che siamo voglio passare che sfigati di merda raga che sfigati di merda peccato mio dio prendere gol al 20 oh però ne tu non riusciamo a passare l'oro no raga prendiamo solo il cazzo in classificata raga no cerchiamo di pushare sto livello 25 su spike che non sarebbe male quanti trofei ciai lì sul daino ok non ha senso caro perché diaz cassa di munizioni sopra vieni vieni power up sopra power up niente c'è dato il mic ma io sincero ma la camper ho detto se mi dai una mano questo che mi sta rompendo i coglioni bravo non ti posso purtroppo aiutare in questa mappa cazzo se ti metti qua con me però mi scontano ciao shelly se hai gatti push e io esco e lo pusho vuoi anche farti pushare c'ho scegli troppo bassa ok ci sta ci sta ci sta che schifo che schifo metti il tuo brawler si metto puttana eva raga è veramente veramente tosta mio dio quanto è difficile è difficile